loading welcome to access the animus furbone di un hacker mi hai trovato beh complimenti stronzo ora immagino che vorrai un qualche premio una conferma del fatto che hai più tempo libero di noi poi manca solo che pubblichi questa cosa da qualche parte su internet così i tuoi piccoli discepoli saranno messi al corrente e ti divertirai a sentirli sbavare l'odi per te godendoti i tuoi 15 megabyte di fama e poi e poi cos'altro? eh? niente proprio niente perché la tua vita non è cambiata sei e resti una persona disgustosa e prima o poi dovrai morire e sul letto di morte ricorderai questo messaggio e penserai per dio John aveva ragione dovevo fare l'astronauta e sai una cosa? è proprio così dovevi fare l'astronauta qua giù non c'è nulla che meriti di essere visto o salvato là fuori invece oh ci sono tante possibilità beh insomma spero che tu non soffra di wirdembe a vettempere se Grazie a tutti.